Disponibilità ad accelerare sugli iter bloccati e a trovare risorse per la tangenzia di Pozzallo coinvolgendo la protezione civile. Attendiamo atti concreti sperando che arrivino con celerità. Così il parlamentare regionale PD Nello Di Pasquale in raccordo con il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatura ha commentato l'impegno dell'assessore regionale Infrastruttura Alessandra Ricò in seno alla seduta di ieri della quarta commissione Arse. È doveroso ricordare che la tangenzia di Pozzallo, dichiara Di Pasquale, è stata consegnata in gestione al comune nel febbraio del 2020 nell'ambito del passaggio di competenza delle reti viarie della ex provincia ai comuni. Nel verbale di consegna era specificato che gli interventi di manutenzione sarebbero stati effettuati dall'IRSAP con progetti regionali. Nulla di tutto ciò è accaduto e il peso delle manutenzioni è ricaduto per intero sul comune di Pozzallo che non ha risorse per occuparsi di un'arteria di enorme importanza e che anzi, con l'apertura dello svincolo sull'autostrada Siracusa-Gela sulla SP46 può essere considerata una strada statale senza contare il fondamentale ruolo di connessione tra il porto e la zona industriale di Modica-Pozzallo. Tuttavia non vi è solo la tangenziale a trovarsi in questa situazione anche la SP46 a necessità di interventi urgenti e il progetto di ammodernamento della strada già finanziato dal governo Musumeci nell'agosto del 2022 insieme a quello di messa in sicurezza dello svincolo autostradale risultano bloccati. Parliamo di interventi per diversi milioni di euro che per forza di cose il comune non potrebbe affrontare.